Mi hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. Io sono Capitan Arlok, ed è giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro. Il momento di riprendere la testa. Il momento di riprendere la testa.